In uno dei commenti sotto l'ultimo video dedicato alla Roma ho definito una situazione pari ad una telenovela e tale è ragazzi, tale è ma più che altro una telenovela dal finale è scontato ma la produzione continua ad andare avanti portando appunto avanti un certo tipo di narrativa che porta il telespettatore a dire e quindi sappiamo tutti come va a finire perché ci si ostina e questo è quello che sta capitando a Roma io ovviamente adesso ho qui davanti un po' di risposte che ha dato Iuric tra Sky, tra conferenza stampa e devo dire grazie a, fatemi vedere come si chiama il sito tuttoessroma.it perché ha fatto un lavoro veramente carino e ha fatto, diciamo, ha catalogato tutte le risposte che Iuric ha dato a domande comunque diverse sui vari network quindi devo dire che no è un lavoro molto interessante partiamo dalla prima ovviamente io non vi dico se è data Sky o in conferenza insomma ho fatto appunto un collage prima domanda cosa salviamo questa sera? ci sono stati tratti positivi dove abbiamo fatto cose giuste e anche momenti di negatività il risultato è negativo ma meglio un punto mettiamola così non possiamo essere soddisfatte di queste prestazioni allora tratti positivi dove cavolo li hai visti? in termini assoluti io vabbè posso anche essere d'accordo diciamo vabbè vanno fatto un po' più di trama in altre partite no ma va contestualizzato il tutto in un ambito della partita contro l'Union Saint-Giloise non stiamo parlando di una partita contro il Barcelloni Guardiola bensì contro l'Union Saint-Giloise che è una squadra che attualmente è decimo del campionato belga tu hai richiamato ad una reazione e non hai reagito anzi hai fatto peggio invece di fare la reazione hai fatto l'azione uguale e contraria quindi dovevi reagire e vatti una partita devastantemente negativa ma soprattutto come puoi fare a dire meglio un punto mettiamola così ma vuoi capire che non sei alla guida del Torino non sei alla guida della Sverona ma sei alla guida della Roma in una piazza come quella di Roma che te scrociano se comunque non fai un certo tipo di risultati o comunque non hai un certo approccio a legare De Rossi non l'ha fatto benissimo in inizio stagione ma ragazzi la tifoseria era con lui perché al di là che era l'ercore di Roma ex capitano futuro ma aveva un approccio bellissimo e a me tutti questi approcci di alcuni della Novell Vag come Palladino come Motta come De Rossi a me piacciono piace il calcio verità gente che non si ferma soltanto al abbiamo fatto bene abbiamo fatto male il passaggino il passaggetto ci vuole gli errori arbitrali allenatori umani che dicono quello che pensano diciamo spontanei e De Rossi era così e sono convinto diciamo al 99% perché poi non si può avere mai la controprova che De Rossi una situazione inizio stagione della Roma l'avrebbe rigirata perché poi Iuri ci è stato preso per arrivare alle vittorie e ora qual è il risultato? fallimento assicurato dopo seconda domanda spesso ci sono errori individuali che condizionano il risultato? sono questioni tecniche i giocatori sono poco tranquilli? non so che dirti e già che inizi così già che tu non capisci il problema di una squadra dopo due mesi quasi è un problema ragazzi è un problema e qui dico sempre l'allenatore deve essere anche psicologo perché deve capire i momenti della squadra e i momenti dei calciatori non è accettabile iniziare una risposta con non so che dirti vai dal medico dopo che studia le carte signora non so quello che c'ha te ti casco un po' le braccia poi non so che dirti stiamo facendo errori capita e qui vabbè può essere anche uno stato mentale che bello pare di introdurre l'argomento psicologico quando di psicologia non ci capisci una fava mi dispiace per i ragazzi perché stanno dando tutto e noi riusciamo a raccogliere quello che dovremmo e vabbè qui fondamentalmente in questa risposta la follia estrema è il non so che dirti quindi non è capitolo solamente dei giocatori e poi dice uno stato mentale può essere anche uno stato mentale ma forse sì ma forse sì io ho sempre detto Juris non è allenatore psicologo ho letto anche un'intervista di Copminers che parlava delle differenze tra Motta e Gasperini e ha detto Copminers Gasperini è uno che dobbiamo fare questo trova il modo Motta è uno che anche voi dello staff dicono come ti trovi per arrivare a questo risultato vogliamo lavorare in modo diverso ti trovi bene ragazzi Juris e scuola Gasp io voglio la vittoria voglio che attaccate così fate così del resto non me ne frega niente io ce lo vedo che hai ragione così anche perché a livello psicologico i tifosi del Torino si ricorderanno quella famosissima conferenza che spesso cito Torino è questo dopo il pregio contro il Frosino in Coppa Italia con rigore non dato a sec che forse è l'unica cosa che ha fatto bene al Torino in anni di permanenza non siamo questi siamo del decimo posto cavolo che psicologia psicologia inversa usata male però e dopo si va avanti oggi bisognava portarla a casa con attenzione dice il giornalista e lui sono d'accordo la partita non è stata brillantissima nel secondo tempo siamo partiti bene soltanto lui ha visto questa partita questa partenza fatta bene fai gol ma stiamo facendo errori individuali che paghiamo non può essere sempre brillante ma portare a casa le partite in questo momento non riusciamo a portare a casa le partite in cui non brilliamo cioè non è che non sei sempre brillanti non lo sei mai non può essere sempre brillante questo me lo posso immaginare che ne so dal Bayern Monaco di adesso che magari a volte qualche battuto d'arresto e dici cavolo però magari su un primo in classifica mi pare più sei forse non mi ricordo e dici e non possiamo essere sempre brillanti laga c'è anche Kane deve rifiatare Musial deve rifiatare Tizio deve rifiatare Olise deve rifiatare il problema è che lo sta dicendo un allenatore che è una squadra a meno nove dalla Champions che ha cinque punti in quattro gare in Conference League quindi la soglia di tolleranza la tolleranza all'errore non è più massimale anzi è minimale per tutto quello che non rendi prima devi rendere dopo e se tu hai fatto e da forza della vittoria contro Udinese che sei in deficit ragazzi adesso la l'azione deve essere quadrupla quintupla non non possiamo sempre partire bene signore santo in questo momento non riusciamo a portare a casa le partite in cui non brighiamo probabilmente tutte c'è una soluzione che il giornalista penso che ci sia che ci siano momenti molto positivi li vede soltanto lui dove sono mancati i risultati che ci avrebbero dato lo slancio se oggi vincevi potevi essere contento no per Zeus no perché sarebbe stato mettere la fottuta polvere sotto il materasso sotto il tappeto scusate no è un effetto metadone il vincere oggi dopo un'ennesima prestazione schifosa sarebbe stato semplicemente alzare il materasso e mettere sotto la polvere prima o poi quella polvere esce sarebbe stato appunto un effetto metadone della serie vabbè abbiamo giocato a schifo dico che non abbiamo brillato ma abbiamo vinto sì ok ripeto filosofia della Sverono da Torino quando giochi contro una Big ma tu adesso sei in una squadra che tempi di spallette tempi di Garzia ti lottava per lo scudetto cavolo la Roma di nominata è una Big di che stiamo parlando di che stiamo parlando poi vabbè dove è arrivato ok se oggi vincevi potevi essere contento ogni volta succede qualcosa la negatività ci può stare perché i risultati non sono soddisfacenti da quanto esiste questa negatività da dopo la vittoria contro l'Udine contro l'Udinese scusate ma bisogna avere resilienza e guardare oltre con la forza di tutti ragazzi la resilienza è un concetto fondamentale è un concetto applicabile a tutti ma come capostipite ripeto la si usa al Torino quando ha il trittico di partite allucinante al Verona un po' di queste squadre perché l'ultime che ha allenato quando stavi al Genoa ma se tu giochi contro il Non Saint-Giloise per Zeus devi tu scendere in campo con le palle e dire questa partita la dominiamo andiamo a comandare in campo cheat cioè capito quello che intendo dire il mio punto di vista non stanno niente in terra queste dichiarazioni sono dichiarazioni da un allenatore che ha una caratura totalmente diversa rispetto rispetto a quella della squadra dopo l'atteggiamento della squadra puntini puntini riferimento del del giornalista la mia impressione è che la squadra cambia da partita a partita bella storia bella storia ci sono partita anche a Verona dove abbiamo perso ma dove ho visto belle cose a Torino anche ho visto belle cose ok e oggi ho visto cose meno belle cioè un attimo chiariamo che a momenti sì ho visto momenti dove abbiamo fatto fatica più del dovuto a volte sono convinto che sono cose giuste ma oggi ho visto cose che non mi piacciono ok cioè nel senso dove hai visto le cose belle delle partite contro Verona o contro il Torino anche prima quando diceva errori individuali errori individuali niente anche errori individuali perché se tu contro il Verona prendi gol negli ultimi minuti ieri hai preso gol mi pare dopo il 75esimo per aver solo il 77esimo 80esimo e come contro il Verona ti scopri in quel modo e ieri tu non hai perso perché San Giluas si è mancato si è mangiato un gol allucinante in due contro uno davanti a Svilar e tu per l'ennesima partita ti fai trovare sbilanciato in avanti della serie dobbiamo recuperare diamo tutto in quest'ultimo ma nella fase offensiva ce ne fottiamo bellamente l'errore chi è è sempre individuale o c'entra anche una filosofia dell'allenatore un dettame dell'allenatore mi rifiuto di credere che 13 14 15 16 giocatori sistematicamente sbagliano individualmente ci deve essere un qualcosa sotto e chi lo dà il qualcosa sotto l'allenatore signore santo poi penultima domanda diciamo che ho selezionato ha una spiegazione a questo non è facile capire perché secondo me contro il Trino fanno una partita molto seria a Verona episodi brutti ma la sensazione è molto positiva episodi brutti l'episodio brutto gli episodi brutti sono stati la minchiata di Zalemsky l'aver portato al tiro di Tengstead che ha portato poi al calcio d'angolo che ha portato al gol di Magnani lì cosa brutta arbitrale ma comunque cosa brutta che ha portato che ha creato una situazione perché lì non era minimamente marcato Tengstead e la terza cosa la minchiata che non ha fatto indicare su livramento quando la squadra era sbilanciata in avanti ma soprattutto ha difeso male sul livramento che stava portando palla perché il livramento stava andando verso l'area di riguardia a Roma mentre la fase di pressing da alcuni giocatori era portata in avanti tu corri in avanti quando invece di andare a pressare il giocatore che ti va verso la tua porta queste sono le cose brutte contro il Torino è brutto che tu abbia vinto ma la partita è vinta grazie una minchiata di Linetti che vogliamo dire che vogliamo dire queste sono le cose orribili cosa sono gli episodi brutti questi sono gli episodi brutti caro Juric sensazione molto positiva sì nel metaverso tuo oggi a tratti sì infatti a secondo tempo i ragazzi hanno fatto molto molto bene solo lui lo vede solo lui lo vede a tratti molto meno ok no mi è arrivata notifica dell'infortunio di Cardi molto grave comunque torniamo a noi non riusciamo proprio adesso a capire il perché di questa altalenanza poi si può giocare bene o male ma ci sono momenti in cui cala l'intensità eh ragazzi non si può sempre giocare soltanto l'intensità ma devi dare anche un maledettissimo gioco in cui cala l'intensità sottolineo stessa cosa che ha detto Copp Miners Gasperini vuole intensità Motta vuole tattica e atteggiamento molto simile alle squadre olandesi in cui cala l'intensità il problema è uno che l'Atalanta c'è un gioco la Roma no la Roma gioco zero quindi anche se cala l'intensità o giochi a maggior intensità perché ieri soltanto con E ha portato intensità non cambia il risultato quindi cambiando loro degli addendi degli addendi il risultato non cambia Hummels chiede il giornalista primo posso dire che Cristante ha fatto una gran bella partita accanimento puro accanimento derivante da un'ignoranza per l'amor di dio calcistica e da un'ottusità pazzesca se ti chiedono di Hummels perché tu dici eh Cristante ha giocato bene eh perché perché io ti domando ti metto sul banco la carta di spade tu mi comandi a coppe perché secondo Hummels già atteggiamento primo Cristante fa un'ottima partita dove l'ha vista l'ha visto soltanto lui lento non ha portato niente secondo per me è molto semplice personalmente devo fare delle scelte tecniche sbagliatissime voglio vincere la gara signore santo se vuoi vincerla così andiamo bene e scelgo uomini che possono permettere egoisticamente di vincere la partita un giocatore eletto miglior difensore della scorsa Champions League o Bundesliga non mi ricordo arrivato nella classifica del pallone d'oro Juric ammettilo Hummels non l'hai voluto tu ti sta sulle palle e non lo metti per partito preso come per partito preso a Torino non cambiavi mai tattica così come tu stai facendo a Torino non ti piace come a Torino era Zima che se non è Zima non è cresciuto e anche grazie e anche per merito tuo dovevo scegliere un giocatore in quella posizione ho scelto Cristante allora non mi di le stronzate Juric Hummels è il degno sostituto di indica perché tu allora a Hummels preferisci Cristante e se se ne va via e se Hummels ti fa casino nello spogliatoio ha ragione ha ragione perché a volte ti abbraccerei Juric ma quando vedo queste cose sento queste cose di un'ottusità e chiusura mentale pazzesca tu mi stai sulle palle e non giochi perché ti fa sulle palle vai contro a quello che tu dici perché egoisticamente tu dovresti ammettere che Hummels sei meglio di Cristante nel centro della difesa o meglio anche di indica ma tu non lo fai perché sei un orgoglioso un orgoglioso che vuoi salvare il culo al tuo lavoro punto e ti inventi cose appartenenti al metaverso per giustificare il tuo il tuo metodo e poi dici non devo pensare io al mio futuro humm diciamo che egoisticamente stai facendo un discorso prodomo tua prodomo tua perché per te il tuo lavoro lo difendi ma la squadra ne sta risentendo sta facendo schifo letteralmente schifo e sotto uno dei commenti uno mi ha scritto finalmente ti vediamo un cazzato ma Juric mi ha sempre un pochino stimolato questo lato perché a volte dice cose senza senso ripeto per cioè non vede l'evidente nega l'innegabile nega l'innegabile che la squadra gioca male che i giocatori stanno giocando male che la classifica sia in Europa League che in campionato fa cagare fanno cagare entrambe questo è un dato di fatto e per questo avessi giudicato Juric non per le bla 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 in conferenza stampa che però lasciano il tempo che trovano comunque fatemi sapere sotto nei commenti il vostro pensiero tifosi da Roma e non vi mando un abbraccio Juriciano e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao